Mi raccomando, tu seguimi, fai tutto quello che ti dico e qualunque cosa succeda manteniamo la calma, niente panico e ricordiamoci che siamo qui per guadagnare, ovviamente, per svelare il mistero comunque, vabbè, adesso partiamo, eh? No, sono a posto? 3, 2, 1, ciac! Allora, seguitemi, ci troviamo presso l'istituto di San Giovanni del Versicetto e siamo qui per svelare il mistero che lo avvolge seguitemi, stiamo arrivando vicina Già, abbiamo ricevuto delle segnazioni che ci raccontano infatti racca pronuncianti siamo arrivati nell'area di quest'era Cos'è? Cosa sono questi suoni incomprensibili? Ma, niente panico, andiamo avanti Guarda, una luce in fondo, andiamo Adesso, cari telespettatori, rimanete con noi perché forse sveleremo il mistero Guarda, forse con queste lavagne notizzano gli studenti Oddio, usciamo da qui Non si sa mai Andiamo a vedere anche l'aula a fianco Questo è il laboratorio Chissà che sperimenti effettuano qua dentro Ma usciamo, dai Seguitemi, andiamo anche nell'altro corredore Sì, sono la manica, dimmi Anzi, no, aspetta dieci minuti Ho sentito dei rumori strani Oddio Cos'è? Cosa? E voi chi siete? Noi siamo la top televisiva e siamo qui per indagare sul mistero di questa scuola Ma lei cosa ci fa qua? Dovrebbe scappare, non ha sentito le strane di questa scuola? Ma mamma fa, che ve lo spiego io Cosa c'è qua? Voi troppo televisivi Venite con me Ma voi credevate di sentire delle voci? Cioè, è stato una registrazione in tedesco Ma allora i ragazzi imparano anche il tedesco? Certo, certo Fanno degli ascolti Ma mica solo in tedesco Poi c'è anche l'inglese, l'inglese Venite Altro che esperimenti Questo è un laboratorio E quello di chimica D'altra parte Come potete osservare Qui ci sono i computer E Vedete, in quella classe là C'è una lavagna multimediale Su Su, viti Ecco Ecco qua Venite a vedere Ecco Come potete vedere Una lavagna multimediale Utile Non solo per le lingue Ma anche per tutte le altre materie Sono i nomi di vendere ragazzi Ogni anno Vengono effettuati Scambi Viaggi e studi O molto Utili Per l'apprendimento Di qualsiasi libro In giro In giro per l'Europa Per esempio La seconda cide L'anno scorso Era data in Olanda E ha ospitato gli olandesi Ma Adesso basta Avete già visto abbastanza Avete visto tutto Adesso potete andare Ciao 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 Spegni quella geggio Ah certo che il linguistico Non era così terribile Come dicevano No affatto È una bella scuola Ma mia carina è rovinata Sì in effetti La Monica ci sa far di più Eh